Il Papa ha ricordato ai suoi confratelli gesuiti che il Vangelo si annuncia con la dolcezza. Lo ha detto nell'Omelia della Messa, celebrata nella Chiesa del Gesù a Roma, invitando a seguire l'esempio di San Pietro Favre, uno dei primi compagni di Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, che è l'ordine religioso, da cui proviene Papa Francesco. Pietro Favre, ha detto il Papa, aveva il vero e profondo desiderio di essere dilatato in Dio. Era completamente centrato in Dio e per questo poteva andare in spirito di obbedienza, spesso anche a piedi, dovunque per l'Europa, a dialogare con tutti e ad annunciare il Vangelo. Ma il Vangelo si annuncia con dolcezza, con fraternità, con amore, non in modo violento.